Snella non è magra perché non tutte le fisicità lo possono essere Snella non è alta perché non tutte le fisicità lo possono essere Snella è chi ha struttura corporea gradevolmente sottile o slanciata E tutte le fisicità a prescindere dalla taglia lo possono essere un po' di più Ecco quindi un nuovo video con 10 piccoli consigli su come vestirsi per sembrare più snella Ma prima come sempre lasciatemi un piccolo like e iscrivetevi al mio canale E se non volete perdervi nessuno dei miei outfit e tanti consigli di moda beauty ogni giorno Seguitemi su Instagram mi trovate come Ele Petrella Sigla Chi trova l'intimo giusto trova un tesoro Punto cruciale spesso trascurato da un massi tanto non lo vede nessuno Invece no L'intimo può giocare a nostro favore basti pensare ai tagli laser e pantaloncini snellenti E le culotte che rendono più alto e sodo il sedere Ma l'intimo può giocare anche contro Ad esempio un reggiseno troppo stretto può segnare e creare un fastidioso rotolino sulla schiena di chiunque Quindi obiettivo numero uno Fai una buona scorta di intimo della tua taglia e adatto alla tua fisicità Maxi is not a friend L'errore più madornale che vedo commettere le ragazze che vorrebbero apparire più snelle E camuffare magari un po' di pancetta, un po' di fianchi, un po' di sedere, un po' di cosce O delle braccia un po' formose Indossare maxi maglioni e maxi felponi Nella speranza di coprire un po' il tutto No No E ancora no Maxi felponi Specie se con il cappuccio e maxi maglioni Per quanto comodi e di tendenza tendono ad irrobustire la figura Non dico di indossare capi aderentissimi ma rifletteteci un po' Un capo largo e voluminoso cosa può fare se non aggiungere larghezza e volume alla nostra figura? Valorizza i punti forti E non dirmi che non li hai Perché sei soltanto troppo cattivo con te stessa Se proprio non riesci a trovarli Fatti aiutare da una persona che ti vuole bene e che quindi vuole il tuo bene Come una mamma, una sorella o una migliore amica Hai delle belle gambe? Indossa più spesso vestiti e gonne Hai un bel sedere tonico? Non nasconderlo sotto ad un felpone in forma e per paura si vede un po' di pancetta Hai delle caviglie sottili? Mettile in evidenza indossando delle calzature affusolate Hai un bel collo lungo? Esaltalo con un scollo V Metti in secondo piano i punti critici I dettagli attirano l'attenzione Quindi tutte le parti del corpo che vengono ricoperte da indumenti e accessori articolati Si notano automaticamente di più Non ami le tue cosce formose? Cerca pantaloni senza tasche né decorazioni sui fianchi Non apprezzi il tuo addome? Scegli delle linee pulite e non aggiungere inutili volumi con pepli, balze e fiocchi Più si semplificherà la figura, più apparirà nel complesso snella Mostra gli skinny peats Trucchetto infallibile Anzi, un segrettone Mostrare le parti più asciutte e ossute del proprio corpo come le mascelle, le clavicole, i gomiti, i polsi, le caviglie o il punto vita Contribuisce a far apparire la silhouette complessivamente più snella Via libera, quindi a scogli a V, maniche a tre quarti, pantaloni capri, capelli lontani dal collo e così via Le linee verticali Le linee verticali snelliscono e questo oramai lo sanno anche i muri Le linee verticali snelliscono Ecco Indossare tutti i giorni outfit a righe non è possibile Indossare cerniere, file di bottoni, pants, cardigan, blazer Sì, e l'effetto allungante, anzi, l'effetto allungante è lo stesso Per contro fate molta attenzione alle ringhe orizzontali, alle maglie che cadono sulla parte più ampia dei fianchi E all'orlo della gonna che arriva in corrispondenza della parte più larga delle cosce o dei polpacci Outfit monocromatici Il nero è sempre il nero e va bene Ma non vi direi mai di indossare tutti i giorni solo e soltanto il nero neanche sotto tortura Sono ok infatti tutti i colori scuri come il denim, il navy, il bordeaux, il viola, il petrolio, il grigio, il marrone e il verde scuro In ogni caso l'importante è indossare nello stesso outfit non più di due o tre colori Meglio ancora se è in tinta in modo da non creare degli stacchi che spezzerebbero la figura E la farebbero apparire quindi più corta e tozza Quindi quando componi i tuoi look preferisci colori simili tra di loro e non eccessivamente a contrasto Perché creerebbero delle linee orizzontali Temibili linee orizzontali La scelta delle scarpe Accessori non ingombranti Desideri apparire più snella? Allora lascia perdere i gioielli dalle forme arrotondate e larghe ed ingombranti come i girocolli Che potrebbero far sembrare taurino anche il collo più sottile Ricordate? Max is not a friend E' decisamente meglio optare sempre per gioielli e accessori lunghi e sottili Ascolta il tuo corpo La vita alta non slancia tutti i fisici I pantaloni a palazzo non slanciano tutti i fisici Le gonne ruota non slanciano tutti i fisici I capineri non slanciano tutti i fisici Dopo aver ascoltato tutti questi consigli Ascolta ciò che ti dice il tuo corpo allo specchio E no, non serve acquistare tutto per capirlo Altrimenti anche servirebbero i giretti per i negozi Spero che questo video vi possa essere utile Se vi è piaciuto lasciatemi un piccolo like e iscrivetevi al mio canale Nell'info box ho inserito tutti i link utili Per questa si domanda come sempre scrivetemi nei commenti E se non volete perdervi nessuno dei miei outfit e tanti consigli di moda e beauty ogni giorno Seguitemi su Instagram Mi trovate come Ele Petrella Grazie per aver guardato il video fino alla fine Qui vi lascio altri due video che spero vi possano essere utili Grazie a tutti